Allora, buongiorno a tutte le studentesse, tutti gli studenti che sono presenti in questa aula magna e anche online, se qualcuno ci sarà. Spero che si senta bene. Benvenuti al nostra giornata a porte aperte Open Day delle lauree magistrali del Dipartimento di Studi Umanistici. Quindi abbiamo preparato questa mattinata con una doppia modalità, una più formale, anche più istituzionale, che avviene qua nell'aula magna, di presentazione non soltanto dei corsi, ma anche di alcune opportunità peculiari del nostro Dipartimento. E poi una più informale, quindi nei banchetti allestiti ai foyer, dove sia docenti, sia anche ex studenti, ma studenti in corso, sono a disposizione per rispondere a domande, dubbi e qualsiasi tipo di questione abbiate relativa ai vari corsi di laurea. Quindi svolgeremo assieme questo momento con una prima parte in cui oltre ai saluti istituzionali vi sarà la presentazione in particolare di alcuni progetti e le voci di alcuni ex studenti, nonché appunto una presentazione generale della nostra offerta formativa. E poi una seconda parte in cui, dopo appunto lo spazio e le domande, saranno presentati vari corsi di laurea da docenti che si avvicendano qua. Mentre i professori parlano e spiegano e raccontano un po' l'offerta formativa, siete liberi anche di, quando non vi interessa direttamente l'offerta formativa, uscire e andare nel foyer a visitare i banchetti, a interloquire con altri docenti. Quindi una modalità un po' mista, il programma che è un programma abbastanza complesso e descritto in alcuni fogli che abbiamo lasciato anche all'ingresso del foyer, quindi chi volesse può trovare il programma della giornata. E inizierei lasciando la parola al professor Alberto Danna, che è il vice direttore del nostro dipartimento e che ringrazio tantissimo per inaugurare i lavori della giornata. Grazie a Maria Chiara Giorda, buongiorno anche da parte mia. Vi porto i saluti del nostro direttore, il professor Merluzzi, che non sta bene in questi giorni. Come sentite dalla mia voce, anche io non sono un fiore come si suol dire a Roma. Comunque siamo molto contenti di fare, di cominciare questa giornata dedicata alla nostra offerta dei corsi di laurea magistrale. Come dipartimento dei studi umanistici siamo molto contenti di offrire ben nove corsi di laurea magistrale agli studenti, ai potenziali utenti. Non siamo sicuri, facciamo questo Open Day anche perché non siamo sicuri che la nostra offerta magistrale sia ben conosciuta in tutti i suoi aspetti. Oltre alla ricchezza numerica e qualitativa, diciamo, dei corsi che offriamo, c'è anche l'opportunità di avere per quattro corsi di laurea magistrale la possibilità di acquisire un doppio titolo, grazie ad accordi con università straniere. Quindi anche questa è una caratteristica che è importante far conoscere perché non è, diciamo, così comune che delle lauree magistrali di ambito umanistico offrano questa opportunità. Vi ricordo soltanto due cose e poi non rubo altro tempo che il nostro dipartimento è dipartimento di eccellenza dal 2023 al 2027, cioè è stato selezionato dal Ministero tra i dipartimenti che in base alla valutazione della qualità della ricerca e ai progetti di ricerca che propone, che i dipartimenti propongono, sono appunto qualificati come dipartimento di eccellenza, questo dovrebbe essere per voi una garanzia anche di qualità di ciò che, dei percorsi che andate ad affrontare nelle lauree magistrali. E la seconda cosa che vorrei dire è che anche per le lauree magistrali e forse ancora di più nelle lauree magistrali che, come dire, si costituiscono una diversificazione, un ampliamento numerico rispetto ai tre corsi di laurea triennale, c'è molto attivo e sempre, diciamo, meritevole di grande attenzione da parte nostra, da parte del Dipartimento, un servizio di tutorato che è pressoché personalizzato. Quando voi cominciate un corso di laurea magistrale sapete che venite seguiti dalla redazione del piano di studi al vostro percorso via via con l'opportunità di avere aggiornamenti, modifiche del piano, consigli, insomma potete essere veramente sicuri, sicure e sicuri di essere accompagnate e accompagnati durante tutto il percorso. È un aspetto del quale noi siamo particolarmente fieri perché gli studenti che sono iscritti alle lauree magistrali ci restituiscono una notevole soddisfazione per questa nostra attività di tutorato e di accompagnamento. Credo di aver detto tutto il necessario e mentre mi congedo da voi passo la parola a Sara Marzi che viene dall'ufficio orientamento dell'Ateneo. La ringrazio e di nuovo buona giornata. Buongiorno, benvenuta a tutti e a tutti all'Open Day del Dipartimento dei Studi Umanistici, un saluto anche per tutti i partecipanti che ci seguono da casa. Sì, io sono Sara Marzi, lavoro per l'ufficio orientamento e oggi sono qui per presentarvi le modalità di matricolazione e i servizi dell'area studenti. Per chi è già scritto Roma 3 sicuramente magari sarà un ripasso o magari proprio l'occasione per mettere a fuoco le opportunità che fino ad oggi si è perso. Al contrario, per tutti i partecipanti che provengono da altri Atenei invece sarà proprio l'occasione per conoscerci. Questo progetto è al suo secondo anno e non nasce soltanto con l'obiettivo di presentarvi l'offerta formativa, quella post lauream, l'eccellenza della ricerca o gli sbocchi professionali. Nasce con l'ambizione di orientarvi e perché no, riorientarvi cogliendo i vostri dubbi e accompagnandovi verso una scelta consapevole che magari è diversa da quella che avete effettuato dopo il diploma per prepararvi ulteriormente verso il vostro futuro. Vi chiediamo alla cortesia alla fine di questo evento di tornare nella pagina dove vi siete prenotati per rispondere a un brevissimo questionario di gradimento e aiutarci a migliorare questi eventi. Per chi non lo conosce, Roma 3 è un Ateneo che innova e si rinnova in un processo di riqualificazione territoriale continuo, soprattutto appunto nel quadrante Ossianze Marconi e Garbadella. Non siamo, sono andata troppo avanti, sì, non siamo un campus a vita propria ormai, non siamo un campus ma bensì viviamo sul territorio e viaggiamo lungo la metro B. Difatti le nostre strutture si sviluppano da termini fino ad Ostia. Abbiamo una vasta offerta formativa, 13 dipartimenti, 4 di cui d'eccellenza, come diceva il professor Danna, uno di questi dipartimenti è per l'appunto studi umanistici, insieme a giurisprudenza, ingegneria industriale, elettronica e meccanica e il dipartimento di scienze. Le card della ricerca, all'interno del portale dell'orientamento abbiamo nella pagina scegli il tuo corso, abbiamo sviluppato una sezione appunto dedicata all'eccellenza dei nostri dipartimenti. Vi invito a visitarla appunto per poter insomma vedere la qualità di tutti questi progetti. Vi invito anche, non credo che sia presto, però vi invito anche a visionare l'offerta post lauream, i dottori di ricerca che sono il più alto grado di istruzione dell'ordinamento accademico italiano, e la formazione insegnanti che è un altro punto di forza del nostro Ateneo, di fatto mettiamo l'Ateneo metà a disposizione una serie di corsi di specializzazione per tutti gli insegnanti che vanno dalla scuola materna fino alla scuola superiore di secondo grado, con l'obiettivo appunto di uno sviluppo professionale continuo. E vi diciamo questo perché magari qualcuno di voi potrebbe avere l'ambizione, con questo tipo di ambizione. I servizi. L'area servizi per gli studenti è costituita dall'ufficio Job Placement, dall'ufficio Orientamento, dall'ufficio Stagio e Tirocini, dall'ufficio Studenti con Disabilità e DSA, dall'ufficio Mobilità Internazionale e dall'ufficio Attività per gli Studenti. Visto il target e le vostre esigenze, ci concentreremo soprattutto sui servizi dell'ufficio Job Placement, su quello dei Stagio e Tirocini. Come sapete l'Ateneo è dotato di una piattaforma del GOMP, a cui è collegata una piattaforma proprio dedicata ai Tirocini e alle attività extracurriculari. Al momento sono registrate sul portale 4.026 aziende e solo nel 2023 sono stati effettuati 1.662 Tirocini curriculari, 38 extracurriculari e 87 all'estero. Per quanto riguarda l'opportunità di lavoro, nel 2023 sono state pubblicizzate più di 285 offerte di lavoro e a tal proposito vi invito, lo so che ormai con i social siamo diventati bravissimi, trovate un sacco di informazioni, però vi prego di leggere la mail istituzionale, perché è attraverso la mail istituzionale che l'ufficio Job Placement vi invita alla newsletter con le offerte di lavoro. Porta Futuro Lazio, qualcuno di voi ha sofferto dei suoi servizi, lo conoscete? Benissimo, proprio per questo io parlavo di riorientamento, no? Porta Futuro Lazio appunto è un progetto della Regione Lazio che offre agli studenti dei percorsi di secondo livello orientative di formazione, però proprio che servono a posizionarvi nel mercato del lavoro. Vi elenco qualche servizio, tra cui la redazione del curriculum in vita, come poter affrontare professionalmente un colloquio di lavoro, ma in collaborazione sempre con l'ufficio Job Placement e l'ufficio Terrocini abbiamo anche dei seminari e laboratori che servono proprio ad acquisire quelle competenze trasversali che tanto poi ci servono nel mondo del lavoro. e quindi vi invito veramente a usufruire di questo servizio. Non è il caso di questo dipartimento, ma voglio comunque spendere due parole perché l'Ateneo è impegnato nell'invertire la rotta perché noi comunque ci rendiamo conto che nei dipartimenti STEM ci sono più iscritti ragazzi e rispetto alle ragazze. Quindi con tutte le iniziative che vengono promosse dal nostro Ateneo speriamo insomma di appunto di invertire questa rotta e di superare questo chiamiamolo blocco culturale. La vita universitaria, visto che non esiste soltanto quella accademica ma anche quella comunitaria, se ancora non l'avete fatto, partecipate alla vita universitaria tramite Roma 3 Sport, Roma 3 Radio, il centro di produzione dei visivi, Roma 3 Orchestra che si muove a livello internazionale, il Teatro Palladium, non so se siete mai stati al Teatro Palladium, perfetto, il coro polifonico, diritto allo studio e all'inclusione, noi ci teniamo che ognuno di voi abbia uno specifico supporto, quindi come già detto prima abbiamo l'ufficio studenti con disabilità e disessa, il supporto psicologico, il centro antiviolenza, il servizio alloggi, le borse di studio per reddito e le borse di collaborazione. Questa è un'altra cosa che se ancora non l'avete fatto in triennale cogliete l'occasione e fatelo in magistrale, vengono rogate tantissime borse di studio e tirocinio per andare per studiare all'estero e tramite il CLA, ovvero il centro linguistico di Ateneo, cogliete l'occasione di magari colmare alcune... ... ... ... ... ... di colmare alcune lacune, approfondire le lingue o magari avere anche delle certificazioni. Il sistema bibliotecario. Quanti di voi conoscono l'apertura serale delle biblioteche e ne soffriscono? Dai, fatemi vedere. Non fare la timida, alza la mano. Ok, perfetto. Questo appunto è un progetto che parte nel 2018 e che prevede l'apertura serale delle biblioteche dal lunedì al venerdì fino alle ore dalle 19 alle 23 e il sabato dalle 14 alle 18. Come matricolarsi alle magistrali? I bandi stanno per uscire, escono nel mese di aprile e i bandi regolano appunto, contengono tutte quelle norme di accesso che regolamentano appunto l'immatricolazione e i corsi di laurea. Le modalità d'ammissione. Brevemente vi do insomma alcune indicazioni. Registrarsi ai servizi online, quindi sul GOMP, presentare online la domanda di valutazione della carriera e poi verificare l'esito della domanda di valutazione per poi procedere con l'immatricolazione. L'esito della domanda può essere ammesso, non ammesso o ammesso sotto condizione. Le tempistiche. Come potete vedere abbiamo sottolineato la parola normalmente perché vi do un'indicazione di massima che comunque dovete verificare attraverso il bando. Normalmente la domanda di valutazione preventiva può essere presentata entro la metà di settembre. Gli ammessi sotto condizione hanno normalmente tempo per immatricolarsi entro il 31 marzo e la scadenza delle immatricolazioni normalmente è fissata per il 15 novembre. Tassa agevolazioni non ve le leggerò tutte per non rubarvi altro tempo. Vi dico soltanto che comunque in ogni caso anche immatricolandovi alle magistrali tuteliamo il vostro reddito con una serie di esoneri. Ad esempio, se vi laureate con un voto all'adrennale con un voto compreso fra 105 e 110 avete un esonero del 50%. Se vi laureate entro il 31 luglio avete un esonero del 50%. In ogni caso calcolate il vostro ISEE entrando nella sezione tassa agevolazioni potete appunto vedere qual è l'esonero che vi appartiene. Vi invitiamo a Roma 3 Night che è un evento che si terrà ai primi di giugno e proprio riparlando proprio tornando al discorso della territorialità Roma 3 Night è un esempio perché non è soltanto aperto agli studenti o a noi dipendenti Roma 3 è aperto al pubblico quindi è aperto ai cittadini e quindi questa è una cosa molto bella ci sono un sacco di presentazioni seminari laboratori anche per bambini e quindi insomma vi aspettiamo vi aspettiamo anche a orientarsi a Roma 3 che invece si terrà i primi di luglio e è l'attività che chiude appunto è l'evento che chiude le attività di orientamento annuale anche questa sarà l'occasione per riconoscere la nostra offerta formativa i servizi e poi c'è tutta la parte serale di J7 che insomma non mi perderei forse in voi mi taccio vi saluto e se avete dubbi questi sono i nostri contatti dell'ufficio orientamento buona giornata grazie a tutti